Senti, che chilo quasi non ci pigliate? Non ci pigliate perché già ci fattere, cioè, questo non ha voluto l'assegno, e quindi non già ci fattere a prendere. Ma in Giappa c'è proprio il suo corpo, non guarda così. Se vuoi che la risolvono, perché poi il prezzo c'è poco, simbolo qua, 2,21, sto facendo a 2,21, posso facendo i 24 passi di trattore. Com'è visto tu, come dici tu? Mi piace. Mi sapevo i due colloci. E poi in prospettiva come dici tu? In prospettiva della gara dell'anno prossimo. E poi in prospettiva come dici tu? In prospettiva della gara dell'anno prossimo. Dici come investimento per l'anno prossimo. Comunque perché il problema è che questo qua è un impegno, voglio dire, è una cosa, è un 4 e 3 oggi. Più poco non ci sta, ci sta ma fa schifo. Ma dove ci vuoi che ci stai a prendere? Ma chi lo tenis come merita tu? In 3 cento, guarda, massimo a 2 e decine. Ma tu mi puoi prendere quello che ci vuoi prendere io. Cioè se ti viene problemi come... Ma ti dai contanti? E poi ci piglia io una cosa... E tu ne chiesti 5 e 5, non ci vuoi sparare, non è che... E tu voglio far spendere 4-5 milioni. E quindi ti posso dare anche in contanti? E piglia una parte e ci piglia una cosa, insomma. Perché io come c'è la piglia una cosa che ci metti uguale. E mi ha fatto il po' sull'anno, guarda qui, visse? Dico io non mi vorrei, non mi piace, non mi piace Visto quanto costa? Quanto costa? costa attorno ai 3.000 euro, 8.000 euro Purtroppo costa perché sono tutti gli amanti, tutti i robini Intorno ai 2.500 euro? 2.500 euro, come i porti ce li faccio a prendere i vecchi e ci prendo i vecchi Ma niente Se non mi fa il problema, non mi fa Non puo niente Cosa c'è, non mi piace, non mi piace, non mi piace La gira in via, diciamo, di 5.500 euro, 20.500 euro La gira in via, diciamo, di 5.500 euro, 20.500 euro Questa c'è, faceva quando andava a scuola, come le c'è Ma chi su giudici qua? 6.500 euro, 20.500 euro Ma li vetti qua, perché qua alla fine comunque non basta la mano Non ti preoccupare No, buona, ci aggiornammo, non ti preoccupare Buona parte Ciao signor Ciao Ho capito il messaggio Sì, con la somma là va bene, quindi 2.500 euro Vabbè, ciao Ciao Ciao